Cari amici buongiorno, spesso si pensa a Domenico Scarlatti come un compositore di diavolerie tecniche, un paganini degli strumenti a tastiera, ma questo non è vero. Domenico ha scritto tantissima musica melodica, molto molto bella. Oggi affronteremo la sonata in re minore K32, una delle poche nel corpo di 555 sonate che ci ha lasciato Domenico, che portano un sottotitolo. Il sottotitolo in questione è Aria, una parola che non lascia dubbi, è una musica da cantare. Buon ascolto. 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 Buon ascolto.